È una domanda molto difficile perché per chi è cresciuto in mezzo ai libri, i libri sono un mondo dove è bello stare come in questa biblioteca e sentirsi circondati da tante voci diverse, a me è sempre piaciuto molto proprio questo, cioè trovare cose diverse e modi diversi di raccontarle, però se proprio devo dire quali sono dei libri che per me sono stati più importanti, nel senso che sono un po' entrati nell'esperienza della mia vita, cioè come se fossero delle cose che ho vissuto, non mi vengono in mente magari i libri più belli che ho letto, quelli che ritengo letterariamente più riusciti, ma dei libri che hanno coinciso con dei momenti della mia storia personale. E quindi il primo che mi viene in mente è un libro bellissimo di Italo Calvino, che sono Le fiabe italiane, che è una specie di tesoro incredibile di storie che oltre a contenere tutti i personaggi delle fiabe, quindi dalle fate agli orchi, alle matrigne, ai bambini fortunati, ai venti magici, contengono anche l'Italia, quindi contengono tutti i modi nostri di vivere, di ragionare, di vedere le cose e sono scritti in un modo meraviglioso, nel senso che Calvino è riuscito a dare un garbo, una grazia a tutti questi racconti, è una specie di affetto per i personaggi che mi hanno accompagnato davvero sempre. Io ho questo libro ancora adesso sul comodino e ogni tanto lo rileggo, quindi è proprio una cosa per me molto significativa e molto ricca, è una ricchezza che secondo me lui ci ha dato. E insieme a questo libro, sempre della mia infanzia, ricordo Storie di bambini molto antichi di Laura Orvieto, dove lei invece con questo espediente molto carino di dire di ogni divinità il nome latino e il nome greco, quindi storie di un bambino che si chiamava Zeus, ma si chiamava anche Giove, storie di una bambina che si chiamava Artemide, ma si chiamava anche Diana e racconta la storia degli dei da piccoli e quindi per me che era una bambina ambiziosa, l'idea che Dio fosse stato anche bambino, che quindi già da bambino potesse in qualche modo manifestare le sue caratteristiche, le sue prerogative, era una cosa che mi dava così molto slancio e molta possibilità di fantasticare. Poi crescendo ho letto tantissimi libri, però il primo romanzo che ho letto è stato lessico familiare di Natalia Ginzburg, che mi ha insegnato che i rapporti tra le persone e i legami sono molto fatti di parole, una cosa che magari intuitivamente sapevo già, però questo libro lo dice in un modo che rimane indimenticabile secondo me e credo che sia la cosa più bella che lei ha scritto. Il primo romanzo mondo invece che ho letto è stato La montagna incantata di Thomas Mann e questo è un'altra cosa ancora, nel senso quello è proprio un universo in cui immergersi e dove un po' per la prima volta ho affrontato il grande tema della difficoltà di partecipare alla vita attiva quando all'interno delle convenzioni sociali ci sono cose inaccettabili, quindi la prospettiva di un luogo dove rifugiarsi, dove fermare il tempo, questa cosa mi ha molto colpito. Diventando un adolescente, quindi incominciando a allontanarmi dagli schemi dei miei genitori sulla strada di Jackie Rock mi ha dato una conferma in questo caso di una cosa che io già sentivo, cioè il fatto che la vita fosse piena di intensità, era chiusa nei posti anche dove meno c'era si può aspettare. Però non è stato tanto questo libro a segnarmi quanto un altro che io collego strettamente a questo che è La corsa dei mantelli di Milo De Angelis, che è una specie di sulla strada ambientato a Milano dove la protagonista è una bambina, ragazza, guerriera che si chiama Daina e che sfida tutti i maschi e che vive nel prodigio del tangenziale, del cavalcavia e c'è un ragazzino che si chiama Luca che deve andare a cercarla, che crede che trovare Daina sia un po' la soluzione della sua vita. Questo libro è stato per me talmente fondamentale che me lo sono messo nello zaino quando sono scappata di casa e quindi è stato il libro che ha portato proprio con me in questa strana esperienza. Poi sono tornata a casa e ho accettato l'idea di diventare grande e in questo mi ha aiutato moltissimo la ricerca del tempo perduto, anche se Thomas Mann già mi aveva aperto una prospettiva di mondo, Proust mi sembrava che avesse capito tutto, cioè che avesse capito nel modo più sottile come funzionano le cose, come funzionano proprio le relazioni umane, come se lui fosse in grado di svelarne tutti i meccanismi. Andando avanti io devo per forza parlare di un film che mi ha proprio scosso tantissimo è che è Oblomov di Nikita Mikhailkov, che è un film, l'ho rivisto recentemente anche per cercare di capire che cosa avesse così colpito e ho pensato che è un film sull'abbandono, cioè sulla possibilità di abbandonarsi completamente a un sentimento e trovo che sia un film meraviglioso, tratto tra l'altro da un libro molto bello che adesso è disponibile anche nella traduzione di Paolo Nori, quindi una ragione in più per leggere il libro e per vedere il film. Su tutt'altro lato, e questo appunto proprio come se fosse una specie di contrapposizione, c'è le relazioni pericolose di Stephen Frears che è invece tratto anche questo dal famoso romanzo epistolare di Laclau e che parla invece della cattiveria e del cinismo, quindi sono come due film bellissimi che affrontano da lati completamente diversi i rapporti umani e direi che in tutti e due ci sono degli elementi paralleli, cioè in entrambi viene rappresentata anche la bontà e però appunto con spazi e modi molto diversi. Io poi ho finito per fare l'editore e quindi il mio rapporto con i libri è cambiato radicalmente, cioè i libri non sono più una lettura di piacere, questa è una cosa che in un certo senso ho perso, mentre sono entrata, e questo è quello che invece ho guadagnato, nella loro essenza, nella loro struttura linguistica e quindi ho imparato a smontarli, a montarli, a vederli dall'interno. Allora adesso i libri a cui sono particolarmente legata, affezionata, sono soprattutto i primi libri degli autori che abbiamo scoperto, che abbiamo lanciato e con cui lavoriamo da tanti anni, per questo mi piace ricordare il primo libro di Cristiano Cavina che è Alla Grande, è un romanzo con cui lui ha esordito ormai nel 2003, raccontando la storia di un bambino che viveva in un piccolo paese dell'Appennino Romagnolo e che faceva un po' tutto quello che Cristiano ha fatto da piccolo. In tutto questo c'è sempre stata anche la musica che ha accompagnato la vita, le scelte, anche il lavoro e sicuramente uno degli album che ho amato di più è Kind of Lou di Miles Davis che ho sentito tantissimo, è sempre stata come una specie di consolazione anche quando avevo bisogno di sentire qualcosa che mi confortasse. Un altro disco che è stato molto importante per me è l'Orfeo di Monteverdi perché nonostante io abbia sempre ascoltato e anche amato la musica classica, quella è stata una specie di rivelazione di un contatto possibile anche con un tempo molto lontano perché il fatto che una cosa scritta nel 1600 suoni così perfettamente vicina, palpabile, ascoltabile ed emozionante mi raddoppia il piacere di ascoltarla.